Buonasera a tutti, buonasera Ivan, eccoci qua ci siamo ripresi anche noi dalle emozioni di questa tappa veramente bellissima che ha visto il nostro Gavazzi splendido secondo posto, quindi a te microfono e parola Buonasera, come hai detto per noi è stata una giornata speciale, una giornata molto bella una giornata che entrando nell'analisi della corsa i ragazzi sono stati molto bravi perché per essere in quella fuga ci volevano tante gambe hanno fatto circa un'ora di battaglia prima che questo gruppo di atleti prendesse il largo e andasse a giocarsi la vittoria di tappa devo dire che Gavazzi ha dimostrato tutto il suo valore avevo già detto nei primi giorni di Giro d'Italia che c'era mancato in questi primi mesi dell'anno un'atleta di grande valore, un'atleta che causa la caduta di la iguiglia purtroppo non ha potuto correre tutta la primavera e oggi ha dimostrato con poche corse nelle gambe di essere così competitivo e sfiorare una tappa a Giro d'Italia è qualcosa di eccezionale sono molto contento molto contento e dobbiamo cercare di continuare a correre così come spesso diciamo quando le cose vanno molto bene dobbiamo far subito rientrare questa cosa per noi importante e al di sopra delle aspettative nella normalità e prepararci alla tappa di domani, domani c'è la prima tappa di montagna di questo Giro d'Italia e devo dire che se i corridori, lo dico dall'inizio, se i nostri ragazzi continuano ad esprimere questo tipo di spirito, questo approccio, questo impegno, questa capacità di leggere la corsa anche nella parte iniziale che poi dove si costruiscono i risultati del fine tappa ci toglieremo grandi soddisfazioni, da segnalare anche a mio modo di vedere un'ottima prova di fortunato che ci sta sorprendendo ogni giorno di più squadra in salute, quindi domani, questa sera ci godiamo questo ottimo risultato per noi e non solo un ottimo risultato, un'ottima settimana è una settimana che è iniziato questo Giro e ogni giorno abbiamo raccolto qualcosa di importante arrivando fino al secondo posto di oggi quindi dobbiamo continuare così e la squadra sta dimostrando veramente di aver meritato questo Giro d'Italia e lo faremo ogni giorno con tutte le nostre forze Certo, hai detto bene e io tornerei su questo concetto per qualche secondo oggi dopo l'arrivo c'è stato un po' di rammarico è ovvio, è umano perché quando arrivi a così poco da qualcosa che tutti quanti stiamo cercando, inseguendo e sognando da tempo è ovvio che un po' di rammarico rimanga però siamo al Giro d'Italia non è affatto scontato quello che sta succedendo all'Aeolo Comete in questo Giro Assolutamente no, dobbiamo però essere molto bravi tutti insieme e dividere la prestazione dal risultato ed essere capaci sempre di equilibrare l'euforia dei risultati importanti come nel caso di oggi con lo sconforto che arriverà in qualche tappa nei prossimi giorni quindi il dovere che ho io è quello di mantenere un equilibrio l'equilibrio giusto con gli atleti, con lo staff e cercare di trasformare tutta questa energia positiva che arriva da queste giornate in energia che viene messa sui pedali nei prossimi giorni ma siamo molto bravi, lo stiamo facendo molto bene questa cosa sento la squadra la cosa che più mi rende contento di questa settimana non prendendo risultati singolarmente proprio il gruppo in generale ha dimostrato che è in corsa, che è capace di leggere la corsa è quello che io chiedevo alla squadra di correre con sistema, con metodo con attaccamento alla maglia con appartenenza con tutti i valori che servono per essere protagonisti lo stanno facendo i risultati arrivano per quello non è una sorpresa il secondo posto di oggi di Galazzi è esattamente il risultato di tanto lavoro che è stato fatto in questi mesi da Francesco che ha dimostrato di essere un eccellente corridore e non è finita qui perché avrà almeno altre 3-4 occasioni per poter riprovare a vincere la tappa e lo stesso faranno i suoi compagni bene, quindi l'appuntamento è come sempre ma come ci diciamo ogni giorno è segnato, è per domani e per le tappe che seguiranno vi aspettiamo qui esattamente e già domani è anche quando le cose van bene quindi dobbiamo velocemente riposare ancora di più perché oggi è stata una tappa molto dura molto dura e domani lo è ancora di più quindi dobbiamo prepararci al meglio bene, andiamo a riposare a domani buona serata buona serata buona serata buona serata